benvenuti in diretta ragazzi in questa replica della diretta del lunedì sera alle 21 che purtroppo ha avuto dei problemi per la connessione faccio questa replica in modo tale da dare la possibilità a chi non è riuscito a vedere la diretta lunedì sera di vederla oggi l'argomento della diretta è un argomento molto importante per tutte quelle persone che o stanno pensando di intraprendere un'attività di network marketing o le persone che stanno già facendo network marketing e vogliono capire come veramente far diventare quello il proprio lavoro e soprattutto guadagnare guadagnare da quel network guadagnare intendo avere dei guadagni che ti permettano di vivere la vita come davvero vuoi vivere la tua vita quindi seguimi se sei tra queste due categorie o anche magari sei una persona che ha conosciuto questa attività perché magari gliene hanno parlato però non ha avuto mai il coraggio di entrarci cioè di addentrarsi in questo nuovo modo di lavorare perché magari non aveva ben chiaro quello che che bisognava fare premetto che io io daniele di benedetti in questo momento non faccio network marketing quindi questa non è una diretta per provare a coinvolgerti nel mio network non è una diretta per venderti qualcosa questa è una diretta per darti dei consigli che arrivano dalla mia esperienza perché non lo faccio adesso ma l'ho fatto in passato e l'ho fatto quando ero ancora un daniele di benedetti che non aveva le competenze che ha oggi avevo tante lacune ero in un momento molto difficile della mia vita avevo visto questo network come una speranza per riuscire a superare quel periodo di difficoltà ma in realtà è stata un'ennesima delusione a una vita già piena di tanti fallimenti di tante delusioni quindi seguimi se sei tra queste tre categorie con questa premessa perché però mi permetto di darti la mia opinione prima cosa perché tante persone mi scrivono ragazzi mi scrivete in tanti sia sulla pagina facebook su instagram mi fate domande ai miei corsi dal vivo dove mi chiedete aiuto per sviluppare il vostro network in modo più efficace perché magari non riuscite ad ottenere risultati che vi hanno promesso e dato che io ci sono passato non sono riuscito ad ottenere risultati che avrei voluto ma so quali sono stati gli errori che ho fatto perché poi nel tempo mi sono costruito le competenze per non continuare nel network ma realizzare i sogni che volevo realizzare nella mia vita e oggi vivo la vita dei miei sogni e aiuto persone anche networker a sviluppare la propria attività di network so darti qualche consiglio interessante la diretta dell'altra sera è stata molto figa quindi seguimi perché se sei tra queste categorie sicuramente prenderai degli spunti utili per migliorare la tua attività ti spiego brevemente cos'è il network nel caso tu non lo sapessi in modo molto semplice te lo spiego ok non voglio darti la spiegazione più completa del mondo ma semplice è un modo alternativo di vendere se ti è stato detto del network marketing di questa opportunità e l'hai vista come capita purtroppo a tante persone come un qualcosa di piramidale catene di sant'antonio e ti sei allontanato per paura di essere fregato in qualche modo ti dico che in alcuni casi sicuramente può essere anche vero perché come in ogni ambito come in ogni settore ci sono persone che vogliono fregarci e quindi assolutamente in alcuni casi è possibile però generalmente un'attività di network marketing in realtà non è qualcosa che ti vuole fregare o che è una piramide o che la catena di sant'antonio in realtà è un'opportunità che se ti dà da fare riesci ad ottenere i risultati che davvero vuoi e la libertà che desideri e anche con i guadagni che ai quali stai avendo sicuramente non è facile non è assolutamente facile devi farti il mazzo come in ogni ambito della vita è un modo diverso di vendere molto semplicemente ok molto semplicemente anziché usare il modello classico di vendita alcune aziende decidono di utilizzare questa strategia che si chiama appunto network marketing quindi è semplicemente una modalità diversa di vendere un prodotto un servizio semplicemente quindi non ti spaventare se qualcuno te l'ha proposto a volte magari te ne parlerò in questa diretta ti sei spaventato perché te l'hanno proposto nel modo sbagliato e questo è uno degli errori che facevo anch'io però adesso arriviamo agli errori io ho iniziato a fare network tanti anni fa 11 anni fa circa perché mio padre è stato male un periodo della mia vita dove io ero totalmente perso fuori di testa veramente non avevo passione non sapevo cosa fare della mia vita mio padre ha avuto un infarto dove quasi morto è stato veramente male per parecchi anni e in quel periodo lì i medici dissero che mio padre non sarebbe vissuto per più di due anni e ogni giorno testuali parole ogni giorno sarebbe stato quello buono per morire cioè potrebbe essere stato poteva essere quello buono per morire e quindi condividete con me che io la mia famiglia mia madre mio fratello e mio padre stesso non abbiamo voluto accettare quella situazione allora siamo andati alla ricerca di soluzioni alternative quindi oltre alla cura farmacologica che vanno prescritto a mio padre siamo andati a cercare quelle che potessero essere delle cure alternative salutari tra virgolette e abbiamo scoperto un mondo nuovo il mondo del benessere il mondo dell'alcalinità del ph alcalino i vegani il veganesimo tutte queste cose succhi vivi abbiamo scoperto tante cose tra le tante cose che abbiamo scoperto e che potevano aiutare mio padre a recuperare la sua salute sono stati dei succhi di frutta speciali questi succhi di frutta specialmente uno ti aiutavano a abbattere i radicali liberi perché erano potenti dei potentissimi antiossidanti e l'azienda che vendeva un succo in particolare che era un succo di mangostano utilizzava appunto la modalità del network e da lì siamo entrati in questo mondo del network marketing mi ricordo il primo giorno che conobbi questo nuovo modo di lavorare mi ritrovai insieme a mio padre mia madre all'interno di quest'aula dove ci saranno state un migliaio di persone e lì rimasi sconvolto perché ero il classico tipo che era nella sua zona di comfort non rischiavo non mi sfidavo continuavo a fare le cose alle quali ero abituato dove mi sentivo bravo ma nel lavoro non riuscivo a sfondare non riuscivo a trovare veramente una passione non riuscivo a togliermi delle soddisfazioni ero continuamente frustrato non riuscivo a sentirmi soddisfatto della mia vita allora mi trovavo in quest'aula e lì conobbi un mondo cioè mi si aprirono tantissime porte la testa mi frullava tantissimo ero anche confuso un pochino perché tante cose tutte insieme però avevo deciso di iniziare questa attività di network di sfidarmi in questa nuova nuova opportunità però come vi ho detto ho fallito come il titolo anche di questa diretta ho fallito nel network marketing perché mi mancavano dei pezzi importanti e una delle cose però che mi porto dietro perché non esistono fallimenti ma solo esperienze di vita è che io avrei dovuto sviluppare delle competenze extra cioè il fallimento nel network che è durato un po di anni cioè dove non riuscivo ad ottenere risultati e rompevo le scatole a tutti mi odiavano tutti i miei amici parenti perché prova a coinvolgere tutti ma lo facevo nel modo sbagliato mi ha insegnato tanto cioè mi porto dietro l'insegnamento forse più grande che con umiltà mi sarei dovuto formare avrei dovuto ampliare le mie consapevolezze che non bastava solo studiare quelle quattro cose che mi hanno detto di studiare ma dovevo farle diventare delle vere e proprie competenze cioè dovevo agire nella direzione delle cose che mi sarebbero servite che in quel momento mi mancavano adesso ti dico in questa diretta condivido con te quelli che sono stati gli errori che io ho fatto e come puoi anche tu magari evitare gli errori che ho fatto io per non fare gli stessi errori perché se fai i miei stessi errori non è proprio il massimo ok e Einstein dice che se continua a fare le stesse cose aspettando di risultati diversi sei un pazzo sei un folle ma io dico sei peggio di un pazzo ok la prima cosa è che mi ero fatto delle false aspettative ovvero le persone che mi avevano proposto questo network me l'avevano proposto in modo troppo esaltante in modo troppo facile mi ero costruito nella mia testa anche per 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 cercare di motivarmi ma in realtà era un modo sbagliato di motivarmi che quella cosa lì sarebbe stata una cosa facile finalmente avevo trovato qualcosa di facile da fare dove potevo finalmente realizzarmi ma in realtà non era così come tutte le cose come tutte le cose ambiziose che ti portano ad una libertà economica e personale era difficile anche quella e c'era tanto lavoro da fare il fatto di essere stato deluso dalle aspettative mi ha mi ha impedito di andare avanti con più energia anzi mi toglieva energia perché ogni porta in faccia che prendevo non volevo accettarla ma mi davo addosso e quindi dicevo sono io che non sono capace sono io che non sono portato non mi davo da fare per migliorare perché credevo di non essere all'altezza perché mi avevano detto che era facile però per me non era facile quindi c'era qualcosa che non funzionava e mi sentivo io sbagliato non pensavo che le persone che mi avevano detto del network mi avessero parlato del network in modo errato ma pensavo di essere io la persona sbagliata e questo non ha funzionato perché mi ha tolto la motivazione credevo di aver trovato la gallina dalle uova d'oro invece mi sono ritrovato con un pugno di mosche in mano quindi prima cosa mi ero fatto delle false aspettative quindi non farti delle false aspettative se vuoi fare network sicuramente un'attività potentissima che ti permette se lo fai davvero con tanto impegno e dedizione e motivazione di essere libero di ottenere i tuoi risultati di guadagnare anche bene non te lo dico io perché ti ho detto io non faccio più network ma ho tanti clienti e conosco tante persone anche amici che ottengono risultati straordinari straordinari non risultatini straordinari e sono partiti da sotto zero e non sono partiti per primi sono partiti anche per ultimi ma si sono fatti un mazzo incredibile e hanno superato quelli che erano partiti per primi non è vero quello certo se parti per primo sei sicuramente un po' avvantaggiato ma quella è un'altra scusa che ti stai mettendo avanti se ti fai il mazzo e togli queste false aspettative e capisci che veramente è una roba che può renderti libero ma devi impegna e devi impegnarti sicuramente otterrai dei risultati la seconda cosa molto importante ragazzi attenzione è che non avevo davvero deciso cioè non avevo veramente preso la decisione di fare quella roba lì sì dai ci provo intanto lo faccio come secondo lavoro anche perché mi avevano detto che potevo farlo mi avevano detto dai ma non ti preoccupare tu iscriviti poi tu tieni il tuo lavoro intanto questo lo fai come secondo lavoro e rotondi ma non è vero nel senso che tutti quelli e te lo dico per esperienza perché formo migliaia migliaia di persone ogni anno in un'aula fai conto con mille persone quando chiedo quanti fanno network alzano la mano fai conto in 100 faccio un esempio alzano la mano in 100 di quei 100 a quei 100 io chiedo ok voi 100 fate network quanti di voi ottengono i risultati che davvero vorrebbero cioè quanti grazie al network riescono a vivere la loro vita e realizzare i propri sogni cioè vivere la vita dei propri sogni e magari alzano la mano in 10 su 100 ok 10 15 non di più a quei 10 perché è difficile ragazzi non tutti ce la fanno se non hanno la mentalità giusta se non fanno le cose che ti sto dicendo in questa diretta a quei 10 15 che ce la fanno sui 100 che fanno network gli chiedo voi lo fate come primo lavoro o come secondo lavoro e il 90 per cento di quei 10 15 che hanno alzato la mano che ottengono risultati nel network indovina indovina lo fanno come primo lavoro è così è così perché perché significa che hai bruciato le ma le navi hai bruciato le vele cioè hai detto ok adesso ho capito che questa è un'opportunità ho capito che questa cosa qui se mi ci metto di impegno ci credo e può veramente cambiarmi la vita mi licenso dal lavoro oppure non dedico più tempo al mio lavoro vado avanti finché dura cioè nel senso non dedico energia al mio lavoro che ho adesso e dedico tutte le energie a questa roba qua cioè voglio dimostrare a me stesso che funziona al massimo potrò dire che non funziona però lo puoi dire che non funziona se ci sei andato contro con tutte le tue energie con tutta la tua motivazione usando tutte le tecniche che avevi in possesso e anche quelle che non avevi in possesso cioè ti sei aggiornato ti sei strutturato hai sviluppato delle competenze extra quindi decidi lo voglio fare davvero o non lo voglio fare se dici ci provo vediamo a rotondo lascia stare non iniziare perché perché stai sprecando tempo e poi non otterrai più risultati nel tuo lavoro attuale che stai vivendo non otterrai risultati nel network e farai un fallimento totale in tutti e due gli ambiti quindi decidi un'altra cosa che non ti porta a decidere davvero magari è che non credi veramente nell'azienda quindi fagli il pelo cioè ti hanno proposto questa azienda vai a vedere da quanti anni è sul mercato vai a vedere se i prodotti che vendono sono prodotti che davvero ti piacciono che davvero fanno bene alle persone se i prodotti che vendono sono etici se l'azienda è etica se rispetta le persone cioè sei in linea con i suoi valori perché se non credi nell'azienda lascia stare cioè se non credi in quell'azienda lì se hai dei dubbi e rimani col dubbio con questa cosa che ti offusca la mente non ce la fai quindi decidi vai ad informarti in modo tale da togliere ogni dubbio ed essere convinto al mille per mille che quell'azienda è un'azienda top e che i suoi prodotti aiutano davvero le persone prodotti o servizi quindi mi ero fatto delle false aspettative non avevo davvero ancora deciso e non avevo un posizionamento non avevo un posizionamento cioè bisognava essere autorevoli agli occhi degli altri cioè quando proponi la tua attività di network ma questo vale in tutti gli ambiti della vita ragazzi ora adesso stiamo parlando di network e ti dico nel network quando io andavo a propormi le persone non mi credevano prima di tutto perché io dicevo diventiamo ricchi saremo liberi e loro dicevano sì ma scusa ma perché te stai qui a lavorare ancora cioè perché mi stai a rompere le palle a me e stai anche a fare sta roba brutta che mi viene a disturbare a cercare di convincermi mi metti ansia ogni volta che mi vedi cioè quella è la roba più sbagliata proprio più sbagliata perché io che subisco quello dico ma io vorrei mai un giorno rompere le scatole così alle persone cioè senti far sentire gli altri come mi sto sentendo io oggi la roba più sbagliata fermati non farlo più questa roba qua non farla più non farla più perché le persone scappano scappano quindi non avevo un posizionamento cioè non ero credibile allora mi sono dovuto costruire nel tempo andando a ricercare le strategie che mi potevano aiutare nel migliorarmi nel mio posizionamento ho capito che avrei dovuto lavorare sulle storie dovevo costruirmi delle storie personali potenti per fare cosa per aumentare il mio spessore agli occhi degli altri allora ho lavorato tantissimo su di me sul mio passato e ho fatto diventare tutte quelle storie mie e anche delle persone vicine a me delle storie utili che nel tempo poi mi sono servite ad altro nel senso che poi non ho più continuato nel network ma se avessi continuato nel network io sono certo che avrei ottenuto risultati che volevo se oggi decido di fare network un posizionamento che mi permetterebbe di ottenere risultati straordinari in pochissimo tempo lo so infatti mi scrivono vieni nel network provano a convincermi ma non è il mio interesse perché il mio obiettivo il mio scopo a me piace fare eventi aiutare le persone in questo modo e quello mi toglierebbe energie quindi si mi porterebbe guadagni ma non è guadagno la cosa importante per me quindi non mi scrivete di fare network con voi però io oggi ho un posizionamento ho una community di quasi un milione di persone quindi se alzo la mano e dico ragazzi chi è interessato a fare il mio network chi è interessato a venire con me in questa nuova opportunità condividi con me che arriverebbero un sacco di persone assolutamente sì quindi devi costruirti il tuo posizionamento che arriva dalle tue storie e arriva dal valore che dai attraverso i tuoi canali social la tua pagina il tuo profilo facebook il tuo profilo instagram youtube il tuo blog dovrai costruirti un blog dove fai cosa divulghi informazioni specifiche per l'argomento di riferimento cioè se la tua azienda vende prodotti per il benessere devi costruirti un posizionamento in quella direzione cioè nel mondo del benessere in questo modo diventi credibile anche nel mondo della libertà cioè della libertà finanziaria di quel mondo lì fare dei video dove spieghi alle persone questi concetti dove non parli del tuo network e dei prodotti del tuo network ma parli di libertà parli del risultato finale parli di stare bene parli di vivere felici di questo devi parlare non del network devi dare valore alle persone per capire che c'è un'opportunità che non è il tuo network in quel momento ma è la vita che loro non stanno vivendo appieno gli fai vedere cose nel tuo argomento specifico che loro non stanno vedendo e poi saranno loro a chiederti cosa possono fare per fare quello che fai tu e allora lì hai fatto bingo perché non sei tu più a rompere le palla gli altri ma sono loro che chiederanno a te per fare questo devi costruirti il tuo posizionamento devi farti il mazzo ma sai qual è la cosa bella che una volta hai costruito il tuo posizionamento magari decidi di cambiare network tu hai un posizionamento decidi di lanciare altri prodotti che non fanno nemmeno parte di nessun network decidi di inventarti tu un prodotto è un posizionamento è un pubblico e a quel pubblico puoi proporgli qualsiasi cosa ovviamente inerente a quell'argomento ma poi inerente a quell'argomento proporgli qualsiasi altra cosa e quindi diventa un modo anche per diversificare il tuo lavoro in un futuro diventa un potere il tuo posizionamento è potere è un fucile pronto cioè tu hai un fucile pronto con cui puoi sparare fucile non mi piace tantissimo è metafora però hai un il potere di poter comunicare alle persone che hai aiutato un'opportunità qualsiasi essa sia inizialmente magari il network e dopo può diventare qualsiasi altra cosa e quindi non mi ero fatto delle false aspettative non avevo deciso non avevo un posizionamento non mi differenziavo non avevo capito come differenziarmi dagli altri sì tanti altri facevano network tanti altri proponevano quei prodotti ma io che cosa mi differenzia in che modo posso distinguermi da tutti gli altri trova il tuo modo per differenziarti e e applicalo soprattutto trasferiscelo attraverso i tuoi video attraverso le tue dirette fondamentale altra cosa che mi ha impedito di ottenere successo nel network è che non sapevo comunicare ragazzi non sapevo comunicare prima cosa non avevo fatto un'analisi dettagliata sul mio pubblico cioè non avevo capito a chi mi volevo rivolgere non avevo capito chi erano veramente i miei potenziali interessati sì fai la lista nomi mi avevano detto ma quella lista nomi in realtà non funzionava non funzionava perché andavo da persone che non erano minimamente interessate che non avevo non avevano un'ambizione verso la vita verso dei risultati migliori che vogliono ottenere quindi questa roba qui ti demotiva perché tu provi ad andare da queste persone dai parenti dagli amici più stretti ti danno un feedback negativissimo tutt'altro poi oltretutto sono anche amici e quindi ti infieriscono cioè ti fanno anche male ti danno anche addosso ancora di più ti dicono che sei in una setta che ti hanno lavato il cervello che è una fregatura cioè ti demotivano ti mettono i bastoni tra le ruote senza volerlo fare apposta ma lo fanno e quindi tu inizi piano piano a perdere motivazione energie e questo è distruttivo soprattutto all'inizio devi vedere la tua attività di network come un aereo che deve decollare cioè un aereo che deve decollare all'inizio devi spingerlo se inizi ad attaccarci dei pesi se inizi a frenare se inizi a mettergli degli ostacoli quest'aereo non decolerà mai quindi nella fase di decollo tu devi essere pulito e protetto da ogni influenza e quindi devi andare dalle persone giuste con convinzione avendo una storia da raccontare avendo uno spessore imparando anche a comunicare significa che non devi ripetere la pappardella che ti hanno detto di ripetere e questa ragazzi è fondamentale vedo che tanti networker che vengono ai miei corsi fanno questo errore cioè raccontano la pappardella tu vai all'evento grande ti dicono devi dire queste cose tu vai dalle persone e gli dici queste cose fregandote di che hai davanti non funziona in comunicazione in generale quando parli a qualcuno non devi ripetere la pappardella pronta devi parlare a quella persona specifica facendo degli esempi calzanti per quella persona per la sua storia per il suo vissuto per le sue convinzioni per i suoi valori per le sue paure per i suoi dubbi a lei devi parlare poi è ovvio che alcune cose sono quelle e dopo gliele dirai ma non è la prima cosa all'inizio devi agganciare devi creare empatia e per creare empatia devi parlare a lei alle sue paure ai suoi dubbi e soprattutto devi screditare distruggere smontare le sue convinzioni limitanti perché le persone soprattutto quando gli proponi un'opportunità di network ovvero dove gli dici ti aiuterò a cambiare vita sarai finalmente libero potrai licenziarti dal lavoro cioè gli fai promesse assurde non ci credono ragazzi perché è normale cioè tu ci credevi quando te l'hanno detto non ci credevi nemmeno tu all'inizio quindi mettiti nei loro panni non dare per scontate le cose perché se le dai per scontate tu loro non ti seguiranno se invece gli fai capire che hai capito i loro problemi e ti metti nei loro panni avrai molte più possibilità ci riuscirai sempre non te lo garantisco ma avrai molte più possibilità di ottenere il risultato che vuoi ottenere perché hai imparato a comunicare poi io ragazzi ero timido balbettavo cioè non riuscivo ad argomentare non avevo discorsi non avevo metafore non avevo letto mai libri quindi devi anche leggere molto imparare a comunicare significa anche avere degli argomenti avere delle storie aver lavorato su il modo di parlare anche non dico che devi diventare un esperto di edizione però imparare ad argomentare a dare peso ad alcune parole come faccio io nelle mie dirette e soprattutto ai miei corsi io ragazzi oggi mi dicono perché me lo dicono che sono bravino sul palco e il mio evento ad esempio dura quattro giorni dal sono al successo partire per cominciare questi eventi qui durano quattro giorni e sul palco parlo io dalla mattina alla sera durano quasi 50 ore di lezione cioè dove io parlo sul palco e sono da solo senza mai annoiare le persone almeno è quello che mi dicono tenendo l'attenzione altissima facendoli piangere facendoli emozionare facendoli ridere dandogli contenuti strategici strategie pratiche tutto in un unico evento in quattro giorni e loro rimangono lì attenti fino alla fine danno tutto se stessi alla fine non hanno voce non hanno più energia perché si sono spumpati mi spiego perché grazie al fatto che nel network avevo fallito ho detto no io questa roba qui adesso devo imparare a dominarla non è normale ho capito che comunicare adesso lo faccio con migliaia di persone perché è il mio lavoro ma anche individualmente quando parli con una persona se sai comunicare l'impatto che hai verso queste persone è totalmente diverso e quindi ho dovuto ho dovuto anche per poi realizzare la passione che è quello che sto facendo oggi imparare a comunicare ed è stata fondamentale questa abilità questa competenza che ho sviluppato perché mi ha permesso poi di sentirmi libero di poter dire la mia quando voglio dire la mia e soprattutto ragazzi che poi la cosa più difficile quando inizi a fare un network di smontare screditare le obiezioni che ti fanno se tu sai comunicare ti rigiri tutte le cose che ti dicono al tuo vantaggio sai gestire le obiezioni che ti fanno le sai accogliere non ti caghi addosso non balbetti non tremi ma sei per una persona sicura che sa gestire tutte queste situazioni e allora otterrai risultati quindi mi ero fatto delle false aspettative non avevo deciso non avevo un posizionamento non sapevo comunicare non sapevo vendere sull'emozione cioè spiegavo concettualmente quanto era bello fare network spiegavo tutta quella storia dei guadagni la scala del guadagno perché arrivi lì fai 5k poi fai 100k poi fai 20k cioè tutte queste robe qui non mi interessano soprattutto all'inizio ragazzi io non voglio capire come guadagnare tu devi emozionarmi poi dopo te lo chiedo io come devo fare a guadagnare ma all'inizio devi emozionarmi devi raccontarmi storie emozionanti di te stesso e di persone che come te ce l'hanno già fatta quello funziona non che mi metti lì e mi inizi a spiegare robe tecniche dei guadagni di tutti quegli algoritmi che a me non interessano soprattutto all'inizio non mi interessano quindi non vendere concettualmente ma emozionalmente cioè proponiti emozionalmente altra cosa cercavo di vendere senza insegnare questa ragazzi networker è fondamentale cercavo di vendere senza insegnare cioè se vuoi fare il networker tu non stai facendo il venditore per un'azienda devi mettertelo in testa devi entrarti nel cervello non sei un venditore non sei un venditore sei un insegnante prima di tutto se capisci questo concetto hai svoltato devi imparare ad insegnare per insegnare significa che devi diventare un leader devi prima di tutto essere l'esempio di quello che stai dicendo se dici che bisogna essere motivati ma non sei motivato le persone non ti seguono se non ti crei un tuo protocollo di insegnamento se non ti crei un tuo sì un tuo protocollo strategico su come arrivare al risultato le persone non ti seguiranno quindi mettiti in testa che non devi vendere devi insegnare devi motivare devi essere presente devi essere veramente d'aiuto devi metterti in testa che il successo delle persone davanti a te è il tuo successo quindi devi dare tutto per tutto per aiutare quelle persone a svoltare cioè ad uscire da quella zona comfort e a rompere le loro convinzioni limitanti che sono quelle che avevi anche tu per quello devi imparare a comunicare per quello devi essere sicuro devi avere una direzione chiara devi aver lavorato prima di tutto su te stesso perché devi essere un esempio perché l'esempio non è il miglior modo per far svoltare gli altri l'esempio è l'unico modo è l'unico modo quindi per forza di cose se vuoi insegnare devi diventare un leader devi portare il tuo esempio per ispirare gli altri ed essere tu l'esempio concreto di quello che stai dicendo e costruirti il tuo protocollo di insegnamento tu dici sì ma già i miei me l'hanno spiegato i miei leader la mia azienda devi costruirti il tuo protocollo di insegnamento perché questo ti darà sicurezza come faccio a portare le persone che lavoreranno con me da un punto A a un punto B cioè da non avere nessun risultato da non avere nessun collaboratore ad avere una una linea piena di collaboratori ad avere 18.000 linee piena di collaboratori e guadagnare e far guadagnare queste persone quello che davvero vogliono guadagnare se ti costruisci il tuo protocollo è il tuo lo senti tu e quando parli alle persone di questo lo percepiscono come quando io vi parlo delle 5P come quando io vi parlo dei miei eventi dal vivo io ci credo e voi lo vedete che ci vedo ci credo altrimenti non verrebbero migliaia di persone ogni volta e ho iniziato due anni e mezzo fa ragazzi a fare questo non è da 40 anni che lo faccio però lo trasferisco con un amore un'energia e una convinzione tale che tu dici cazzo questo ci crede talmente tanto che voglio crederci anch'io cioè voglio capire come fa e allora vieni in aula vieni a capire come svoltare quindi la stessa cosa vale per te devi trasferire questo altrimenti se non ci credi tu nessuno al di fuori di te può crederci più di te se non ci credi tu in quello che stai proponendo figurati se ti verranno dietro gli altri e ultima cosa non sapevo gestire me stesso cioè quando inizia un'attività di network la cosa importante che devi capire oltre tutte le cose che ti ho detto lo so che sono tante ma sono tutte fondamentali è che sei da solo sì c'è il tuo leader ci sono i tuoi compagni di viaggio sei da solo nel senso che quando la mattina ti svegli non c'è uno a punzecchiarti non è gli orari di lavoro non devi timbrare il cartellino sei da solo tu con te stesso e devi fare le chiamate devi prendere gli appuntamenti devi costruire il tuo protocollo devi fare i video per posizionarti devi farli tu nessuno verrà a dirti di farli li devi fare tu devi prenderti l'impegno tu devi essere come il coach di te stesso cioè devi coacharti devi devi spronarti devi punzecchiarti altrimenti non ce la fai perché sei un imprenditore non è le stesse responsabilità che è un imprenditore ma quasi ma quasi perché l'azienda non è la tua l'approvvigionamento dei prodotti non è il tuo però come atteggiamento è quasi un atteggiamento imprenditoriale ci siamo ragazzi quindi devi anche essere disposto a prenderti certe responsabilità e non è per tutti infatti questa diretta non ti sto dicendo che tutti possono fare network e se vi hanno detto questo vi hanno detto un sacco di cazzate non è per tutti ci sono persone che nella vita vogliono fare dipendenti io voglio essere dipendente perché io non voglio altri rischi voglio questa tipologia di vita perché mi piace avere questa tipologia di vita in quel caso lascia stare non iniziare ok devi gestire quella situazione lì nel senso che devi accettarla devi accoglierla e vivere quella vita con serenità però va bene ci può stare se invece sei ambizioso può uscire fuori da questa ruota del criceto se ti senti che vuoi dell'altro ma non riesci ad ottenerlo allora devi metterti in testa che diventa quasi un'attività imprenditoriale dove sei tu e ti devi assumere le tue responsabilità e devi essere il coach di te stesso nel senso che le cose o le fai tu o non le fa nessuno mi spiego? e poi con chi ti lamenti con gli altri eh il network non funziona eh ma il mio leader è sfigato eh ma bla 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 non è vero sei tu che non ti sei impegnato sei tu che non ti sei assunto le tue responsabilità devi avere dei rituali devi avere dei rituali cioè la mattina svegliati mezz'ora prima un'ora prima e motivati cioè datti lo sprint per vivere la tua vita pieno e per realizzare tutti i risultati che vuoi realizzare devi avere dei rituali potenti per te perché altrimenti non riuscirai a fare quello che ti sto dicendo e se non hai mezz'ora un'ora per te stesso e vuoi fare network lascia stare fin da subito te lo dico lascia stare non iniziare perché sprechi tempo è la cosa peggiore è sprecare tempo perché il tempo e lo dico in un video che sta girando ovunque il tempo è l'unica cosa che non tornerà a me indietro quindi usalo bene sto tempo ok che hai perché non torna indietro quindi se decidi fatti il culo datti da fare e altra cosa sei il capo di te stesso devi essere esigente devi essere esigente devi agire per stupire non per eseguire non puoi accontentarti agire per stupire non per eseguire vivere la tua vita vivere questa attività di network come una continua sfida e non come una prova da superare sì dai ci provo ce la farò faccio il minimo no devi agire per stupire non per eseguire se ti hanno detto di fare dieci telefonate tu devi farne cento di telefonate perché sei dentro un'attività sei un imprenditoriale devi darti da fare devi andare oltre le aspettative delle persone oltre le aspettative delle persone allora otterrai risultati che davvero vuoi ottenere e poi ragazzi ultima cosa non me la sono scritta ma ce l'ho nel cuore e penso che si veda da come cerco di trasferire quello che fai qualsiasi azienda sia qualsiasi prodotto sia prima di tutto deve appassionare te cioè deve essere qualcosa che ti appassiona se veramente aiutare le persone ti appassiona io quando vedo una persona svoltare che gli si illuminano gli occhi che dice wow finalmente ho capito che posso davvero vivere questa situazione in modo diverso finalmente ho capito che posso dare un significato nuovo a questa storia al mio passato finalmente ho capito come realizzare questo mio sogno quando vedo che si illuminano gli occhi e che torna la speranza che torna la voglia di vivere per me quella roba lì è tutto è tutto io non desidero altro per me quella roba lì è tutto quindi se quello che fai se questo network se questa attività se questi prodotti se aiutare le persone ti piace così tanto questo deve essere un punto di partenza la base su cui poggia tutto te l'ho detto per ultimo ma è la base cioè quello su cui poggia tutta la tua attività di network se c'è questo tutto il resto sono sicuro che lo svilupperai tutto il resto sono sicuro che lo svilupperai perché se c'è questo nulla è impossibile nulla è impossibile davvero perché sei pronto a tutto e magari poi non diventerai il networker più ricco del mondo ma riuscirai a vivere di questo e ottenere risultati che davvero puoi vivere io ragazzi ho fatto questa diretta perché mi chiedete in tanti consigli sul network mi chiedete soprattutto ma dal sogno al successo l'evento che fai arriccione mi aiuta anche nel network è assolutamente sì che ti aiuta dal 14 al 17 di marzo io terrò la quinta edizione di dal sogno al successo che è un evento che ti aiuta a sviluppare le 5p dell'indipendenza cioè la psicologia la psicologia avere una mentalità forte saper gestire i propri conflitti interiori fondamentale il posizionamento costruirti il posizionamento che io non avevo quando ho iniziato a fare network che mi ha fatto fallire costruirti il tuo spessore nel mondo la percezione che gli altri avranno di te per essere più credibile agli occhi degli altri e quindi psicologia posizionamento produttività imparare a dominare la tua energia perché l'energia che hai è fondamentale come fai ad ottenere risultati se non hai energia io ti sembro energico adesso penso di sì perché altrimenti non riuscirei a trasferire certi concetti non riuscirei a motivarti quindi devi sviluppare energia devi generare energia l'energia è qualcosa che sviluppi da dentro di te non arriva da fuori e tu eh no io mi sento stanco ti senti stanco perché non stai sviluppando energia non ti stai motivando nel modo giusto e non riesci ad esprimere energia ci sono delle tecniche e io ad azione al successo ti spiego quali sono le tecniche che uso io e che assolutamente può essere anche tu perché già migliaia di persone le stanno usando e hanno svoltato la loro vita il produttività la terza P significa anche sfruttare al massimo il proprio tempo cioè frustare il tempo io dico cioè diventare persone veramente produttive saper gestire i propri impegni imparare a dire no e ottimizzare cioè non fare multitasking ma dedicare il tempo giusto all'attività giusta e avere tutte le strategie necessarie per essere produttivi cioè per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile e questo è fondamentale per arrivare all'eccellenza ed ottenere davvero gli obiettivi che è un altro aspetto dove parlo quando parlo di produttività fondamentale riuscire ad avere settare degli obiettivi e soprattutto imparare come fare a raggiungere questi obiettivi la quarta P fondamentale te l'ho detto ed è stata un'altra delle lacune che mi ha impedito di ottenere risultati super nel network e quindi di fallire e dover abbandonare è la persuasione imparare a comunicare è fondamentale e in questo evento ti spiego le strategie più importanti per diventare un comunicatore di successo non per fare eventi con migliaia di persone o magari anche sì se quello è il tuo obiettivo ma anche di comunicare individualmente con una persona di riuscire ad entrare in empatia riuscire a convincere che significa vincere insieme a quella persona riuscire a trasferire un'idea un concetto riuscire ad essere empatici diventare dei leader e comunicare è troppo importante in questo evento ti spiego le strategie più importanti e ti racconto un sacco di storie utili e ti faccio fare soprattutto esercizi pratici proprio fisici dove ti faccio provare sulla tua pelle che queste strategie funzionano se le sai applicare nel modo giusto e poi la quinta P fondamentale quindi abbiamo detto psicologia posizionamento produttività persuasione e promozione imparare a promuoverti nel mercato se vuoi fare network marketing devi avere delle strategie di marketing devi saperti promuovere perché altrimenti vai da tuo zio vai da tua nonna vai da tuo fratello vedi i quattro amici che hai intorno ma non basta anzi quelli lì ti scoraggeranno e basta devi invece costruire un protocollo di marketing preciso che ti permetterà di attrarre a te le persone giuste le persone giuste che fanno al caso tuo e che vogliono davvero dare una svolta alla loro vita allora non sarai più scoraggiato nel motivare persone che non vogliono essere motivate ma avrai le persone giuste con i quali condividere questo percorso pazzesco che è il network marketing che hai deciso di intraprendere quindi per chi è interessato ragazzi vi metto il link sapete che sono aperte le iscrizioni in prelancio per ancora qualche giorno quindi se vi interessa se fai network vieni assolutamente perché è un'opportunità pazzesca per avere quelle competenze extra per sviluppare la tua attività e portarla a livelli altissimi ho fatto questa replica per tutti voi ragazzi che non avevate potuto vederla lunedì sera mi auguro di esservi stato utile mi auguro di non aver dimenticato nulla che avevo detto l'altra sera ma penso di no anzi forse sono stato anche leggermente più conciso e vi voglio bene credeteci datevi da fare perché si può fare ragazzi se ci credete voi se avete le competenze le strategie giuste se vi date davvero da fare vi impegnate tanto e agite davvero potete ottenere risultati in qualsiasi ambito della vita e soprattutto anche nel network vi voglio bene e vi auguro una splendida giornata in bocca al lupo grazie a tutti